Visita a Sanremo e Ventimiglia per il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, quest'oggi a sostegno delle candidature di Sergio Tomasini e Gaetano Scullino. Nelle pomeriggio ha fatto visita in via Emburi, nella città di Confine, dove ovviamente si è parlato molto della proposta di legge dell'onorevole Flavio Di Muro per il bonus fiscale dei frontalieri, lavoratori e pensionati. Poi la tappa a Sanremo al point di Sergio Tomasini, dove come primo argomento trattato è stato quello relativo alla vicenda del sottosegretario Armando Siri. Il Presidente del Consiglio si è preso un po' di tempo per riflettere, ha incontrato Armando Siri i giorni scorsi e adesso vedremo che decisioni prenderà. Non si condannà nessuno senza aver visto le carte, senza aver visto gli atti. Un tour nel Ponente Ligure, lei è stato poco fa a Ventimiglia, e si parla molto di questa nuova proposta di legge dell'onorevole Di Muro per i frontalieri. Ci può dire qualcosa in merito? No, il problema dei frontalieri è un problema enorme per le aree di confine. Io vengo da Varese, abbiamo il problema dei frontalieri con la Svizzera, qui c'è il problema dei frontalieri ovviamente con la Francia e Monte Carlo. La verità è che a Roma molto spesso, se non c'è una pressione da parte dei territori, da parte dei deputati e dei senatori eletti in queste zone, questi sono argomenti che non sono considerati. Quindi la presidenza della Lega al Governo è una garanzia che questo tipo di problematiche molto rilevanti in questi territori vengano presi in considerazione. Elezioni amministrative, elezioni europee è ormai alle porte, vicino a lei c'è il candidato a sindaco del centro-destra Sergio Tomasini, immaginiamo che voglia dire due parole anche per lui. Sono qui, ieri sera fino a mezzanotte siamo stati in Consiglio dei Ministri, domani sono a Gorizia, oggi sono a 20 miglia a Sanremo perché ovviamente c'è una campagna elettorale per le europee ma c'è anche da aiutare tutti coloro che vogliono rendere le proprie città più belle, più sicure con un atteggiamento che è quello che noi della Lega stiamo cercando di portare ovunque, cioè l'atteggiamento di buonsenso, cioè di attenzione alla gente, attenzione anche ai dimenticati, quelli che in qualche modo nessuno ha mai ascoltato e quindi traduzione in azioni concrete per rispondere ai problemi concreti della gente, questo significa agire politica con buonsenso. Sergio Tomasini cosa chiede? Sicuramente questo grande segnale di vicinanza abbiamo avuto Edoardo Rixi l'altro ieri, oggi Giancarlo Giorgetti è un segno che abbiamo questo firouge che ci accomuna a regione e governo e quindi i concetti li ha sintetizzati benissimo Giorgetti, la sicurezza, la pulizia della città, essere il primo cittadino di tutti i quartieri e di tutti i cittadini di Sanremo per rilanciarla anche a livello internazionale.